Adriana Spassoli, regista del marketing, era direttore del marketing operativo e comunicazione del gruppo Mappei, che da tantissimi anni sostiene la manifestazione, proprio grazie a questa grande amica che ha sempre tenuto in alta considerazione i temi del verde, ritenendo Mappei in linea con le politiche ambientali della nostra amministrazione. Un giardino dedicato a questa grande amica per ricordare la sua passione, la sua forza, la sua energia, grazie anche ad un splendido sorriso nell'apprezzare il nostro lavoro infondendoci fiducia, stima e considerazione. Qui nel Parco Trevz nel centro di Milano Marittima abbiamo piantato alcuni esemplari della rosa Cinco de Maio, una bellissima floribunda con fiori doppi rossi che circondano il simbolo dell'evento, la margherita con i colori dell'arcobaleno, a ricordare Adriana Spassoli e suo marito Giorgio Squinzi. Grazie Adriana per tutto quello che hai fatto per Cervia, ci sarà sempre un giardino dedicato a te nella città Giardino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.